Siamo molto soddisfatti perché l'affluenza è alta e grande senso di responsabilità da parte degli studenti, da parte del mondo della scuola e la dimostrazione è che serviva, serviva per rendere il rientra a scuola più sicuro e credo che grazie all'AIL, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, a tutta l'organizzazione che Mila e Giuliana hanno messi in piedi abbiamo dimostrato anche una capacità organizzativa non da poco ed è la dimostrazione che serve in tutta la regione perché io sono contento per i ragazzi di Pesaro che hanno questa opportunità per i ragazzi che studiano a Pesaro e di altri comuni che hanno l'identica opportunità ma penso che sia un'opportunità che dobbiamo dare a tutti gli studenti della regione Marche la regione Marche ha tantissimi tamponi in magazzino, potrebbe organizzare direttamente questo screening rendere il rientra a scuola più sicuro o sostenere come abbiamo chiesto noi iniziative dei comuni in questo senso le istituzioni devono collaborare sempre a maggior ragione quando parliamo di sicurezza sanitaria e quando parliamo di scuola l'altro elemento che viene fuori è che andrebbe ripetuto perché per avere una fotografia costante dell'andamento dell'epidemia della sicurezza scolastica andrebbe ripetuto io credo una volta al mese la regione Marche ha i tamponi sufficienti per farlo e per far sì che la scuola non sia ancora una volta la prima cosa che richiude e l'ultima cosa che riapre con Giuliano Emila stavamo anche ragionando di aprire la prossima settimana a coloro che questi giorni magari per timore non sono andati l'altra cosa interessante sarà il valore statistico perché sapere statisticamente qual è lo stato di salute della popolazione scolastica è molto importante ad oggi a rientro dai primi dati pare che la scuola sia sicura c'è un senso di responsabilità dei ragazzi che ci sorprende ma non ci dovrebbe sorprendere perché noi lo vediamo in tanti contesti che questi ragazzi sono veramente maturi e sono in grado di sapere scegliere e di poter valutare la situazione e poi ci sono degli insegnanti molto responsabili che sanno addestrare perlomeno incitare i ragazzi a comportarsi adeguatamente credo veramente che sia un esempio di buon vivere, di sano vivere che va ripetuto il più presto possibile